Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Dragon Ball. Con la puntata di oggi andremo ad analizzare 4 leader promo che non vedono molta giocata, però a me piacciono e andiamo a capire perché in questo meta magari non sono usati così tanto e assieme scopriamo come possiamo potenziarli per renderli più giocabili. Iniziamo subito. Eccoci qua con Broly. Da far notare che questo Broly è un leader nero, quindi dovrà sfruttare le super combo nere. Ci sono un paio che possiamo usare. Possiamo usare quella di Master Roshi di BT6 oppure possiamo usare quella di Gohan di BT5. Una funziona tramite l'amount di vita che abbiamo, Roshi, 4, e peschiamo uno, oppure l'altra fa Sparking 5 e peschiamo una. Adesso andiamo a vedere quale potrebbe essere quella migliore. Intanto, quando questa carta attacca una carta leader, puoi scegliere una carta dalla tua vita e metterla nella tua area degli scarti. Se lo fai, metti le prime tre carte del tuo mazzo nella tua area degli scarti. Poi il tuo avversario sceglie una carta dalla propria mano e la mette nella sua area degli scarti. Quindi, già di principio questo leader fa molto. Tecnicamente non ti fa negare carte perché non hai mai accesso alle carte in mano. Quindi, di vita ti fa meno uno, senza ricevere valore in mano, però, allo stesso tempo, fa meno uno nella mano dell'avversario, che è più importante. Ti fa Burst 3. Questo è uno dei leader originali che fanno Burst, Raffica, senza avere la parola chiave Raffica. Quindi, fa Raffica a tre e poi risolvi il suo auto. È importante far notare che il leader non fa Raffica fino a tre carte, quindi non puoi scegliere zero, una o due, tre carte dal mazzo, devi per forza mettere tre carte dalla cima del mazzo nella drop. Poi, per fare il risveglio, a quattro vite, peschi due carte e giri il leader. Quando questa carta attacca, pesca una carta. Poi, puoi scegliere una tua carta combattimento non pedina, non nera e metterla nella tua area degli scarti. Quindi, una battle card non nera che non sia una pedina. Quindi, una battle card rossa, verde, basta che non sia pedina. Se lo fai, il tuo avversario sceglie una carta dalla propria mano e la mette nella sua area degli scarti. Quindi, anche da risvegliato, continua a influenzare la mano dell'avversario. Ora, l'attivazione principale è molto forte. Scegli una carta dalla tua mano e mettila nella tua area degli scarti. Scegli fino a una carta combattimento dal suo avversario e mettila a KO. Quindi, innanzitutto, perché questo leader viene poco giocato? Perché non ha un engine, un suo archetipo specifico. Quindi, bisogna essere un po' più creativi. Uno dei due engine che possiamo giocare in questo mazzo sarebbe Chilai, costo uno, che pesca una quando entra in campo e pagando due energie gioca un'altra Chilai o un Lemo in campo. Può giocare un freeze armi, costo due, ma in questo caso sarebbero i nostri target, sono quelli. Oppure, possiamo giocare il Chilai, appunto, costo due nel mazzo, che quando metti una carta KO avversario, l'avversario deve scartare una carta. Quindi, già lì, vediamo l'interazione, come funziona bene con il leader che ha la sua attivazione principale. Tu scarti una carta, metti una carta avversario KO e adesso anche l'avversario deve scartare una carta. Se hai giocato la partita correttamente e ti trovi a più uno rispetto all'avversario, questo può significare molto nel lungo andare. Inoltre, puoi pagare due energie per giocare l'Emo e l'avversario deve scartare una carta dalla mano se tu hai in campo una Chilai. Fantastico! Poi, l'altro mini-engine che possiamo giocare è il Super 17, che quando entra in campo puoi scartare due carte dalla tua mano per scartare due carte dalla mano dell'avversario. Quindi, in combinazione con l'engine di Chilai, fai tanta pressione sulla mano avversario. Quindi, questo è un leader che punta alla hand destruction, hand control, più che al board control oppure agro. è un stile un po' più lento e che per questo forse vede meno giocate. Insomma, resta un leader forte perché permette di fare self-awaken e di manipolare la mano avversaria. Molto bene, è anche il campo. Il prossimo leader è Krilin, leader blu promo. Quando questa carta attacca una carta leader, puoi scegliere una carta dalla tua vita e aggiungerla alla tua mano. Se lo fai, pesca una carta. Quando hai 4 di vita o inferiore, scegli una tua energia e la metti in modalità attiva. e giri questa carta. Non pesca uno, ma adesso andiamo a vedere perché è irrilevante che non pesca uno. Inoltre, è un leader che fa self-awaken, quindi è un buon leader di principio. Non tutti i leader che fanno self-awaken sono necessariamente buoni, ma è sempre buono avere l'opzione di poter fare self-awaken perché ti rende di giocare in una maniera più attiva che passiva e quindi di essere più in controllo della partita. Quando fa awaken, quando è risvegliato, a fine turno pesca una carta. Quindi quando si fa il suo risveglio è come se stappasse una e pescasse una. Tutto qua. Quando attacca pesca una carta. A fine turno peschi una carta. Questo leader pesca, pesca, pesca. Attivazione principale. Una volta per turno, scegli una carta da tua mano e mettila nella tua area degli scarti. Questa carta ottiene 5k potenza e critico fino alla fine del turno. Quindi molto simile al leader Janemba che di sé, quando ha sparking, può guadagnare 5k e critico quando attacca. L'unica differenza è che Krinit ti fa scartare una carta da tua mano. Allora, questo mi porta al prossimo interazione che volevo suggerire con questo leader. Di solito il mazzo di Janemba Chain appunto si gioca con il leader Janemba oppure c'è anche l'opzione di giocarlo con il leader Hirudegarn. Purtroppo noi non abbiamo accesso al leader Hirudegarn ma abbiamo accesso alla seconda opzione migliore, questo Krillin che è fantastico. Il Krillin è molto buono perché permette di creare tanta pressione sull'avversario siccome ha un critico praticamente opzionale che lo puoi attivare quando vuoi. La carta che scarti è un più zero perché poi la ripeschi a fine turno e puoi giocare la Janemba Chain per creare tanta pressione sull'avversario per fare tanti attacchi critici. Ovviamente bisogna far notare che la Janemba Chain si ferma con leader costo 5 con la big boy costo 5 scusate, non leader costo 5 perché richiede un leader Janemba o Devil and Kernet non mi ricordo esattamente però non puoi giocarlo con un leader non Janemba almeno per ora e quindi non ti permette di portare più un altro Janemba dalla warp in campo praticamente ti toglie un attacco critico il motivo per cui lo giochiamo è perché Krillin ti riempie la mano di continuo e pesca tanto e permette di fare self awaken e di non subire troppi danni non deve puntare allo sparking 10 di Janemba perché non deve attivare il suo effetto di attivazione principale e quindi in tutto per tutto è un buon leader che ha accesso a un mini Angel abbastanza forte il prossimo leader che andiamo ad analizzare è questo bellissimo Son Goku uno dei miei leader preferiti uno perché l'arte mi piace un sacco due perché giallo e blu nell'arte sono bellissime mi piace il giallo e il blu e in più perché il suo effetto awaken è molto troll ma è altrettanto forte adesso andiamo ad analizzare la parte forte e la parte molto più situazionale quando questa carta attacca una carta leader quindi è importante una carta leader puoi scegliere una carta della tua vita e aggiungerla alla tua mano se lo fai pesca una carta bene anche questo è un self awakener quando la tua vita è pari o inferiore a 4 scegli fino a due tue energie mettila in modalità attiva e gira questa carta e boom ci becchiamo Son Goku colpo adulto da adulto allora prima partiamo dall'effetto più forte di questa carta quando attacca è un pesca 1 e guadagna 5k fino alla fine del turno allora è sempre un leader con 20k nella tua fase offensiva tutti i leader che hanno accesso a questo piccolo boost nella fase offensiva sono molto potenti perché creano un impatto sulla mano avversaria in qualche modo devono difendersi più di quanto avrebbero dovuto se il leader fosse un 15k quando questa carta attacca adesso arriva il bello dell'effetto della carta ma è molto situazionale se il tuo avversario ha 4 più carte combattimento in gioco questa carta guadagna quadruplo colpo fino alla fine del turno quadruplo colpo molto efficace se l'avversario ha 4 di vita lo mandi a 0 direttamente se riesci a combare più del leader però tu dici magari mi fermano l'attacco e no l'effetto continuo di Goku dice quando l'avversario ha 4 più carte combattimento in gioco gli attacchi di questa carta non possono essere annullati quindi questo è un leader contro il passivo perché forza l'avversario a giocare intorno all'effetto del leader se si dimentica devono stare attenti adesso magari non possono più autocombare e perdono se si ricordano dell'effetto del leader allora sono forzati a tenere 3 carte in campo il care vuol dire che riducono l'amount di pressione che devi difendere dall'avversario meno carte in campo vuol dire meno attacchi possibili più carte in campo vuol dire che adesso l'avversario deve trovare un modo per difendersi efficacemente o magari si è dimenticato e adesso deve subire la punizione di Goku in ogni caso è un buon leader perché ha accesso al shocking death ball e ha l'accesso alla supercombo più forte nel gioco che è il Paragus il Paragus pesca 2 e poi warpa 1 quindi se è la tua ultima supercombo in mano se è la tua ultima carta in mano ti permette di vedere 2 carte prima di dover fare una decisione warpa 1 fenomenale inoltre con questo leader possiamo giocare l'archetipo di Goku di TB2 quindi praticamente possiamo giocare l'Engine e i Krillin che entrano in campo e quando vengono messi i KO possiamo giocare il Goku costo 5 che entra dalla mano in campo con doppio strike e quando entra in campo spacca una carta avversaria ignorando barriera di qualunque costo quello è un mini archetipo che possiamo girare con questo leader infine questo è un buon leader che viene usato poco ma ha tante potenzialità infine il mio leader preferito Broly di questa serie di 4 leader Broly fantastico adesso andiamo a vedere perché è fenomenale prima di tutto è una carta che anche lui può fare self awakener puoi scegliere una carta della tua vita e aggiungerla alla tua mano quando attacca se lo fai pesca una carta la differenza tra lui e il Goku è che il Goku ha lo stesso effetto ma solo quando attacca il leader avversario mentre il Broly può attaccare anche una battle card e può prendersi un danno e pescare una quindi è leggermente migliore dal lato unawaken poi quando la vita è pari a 4 o inferiore stappi due energie e lo metti in modalità risvegliata cioè lo giri quando questa carta attacca pesca una carta innanzitutto guardiamo quanto è bella questa arte poi guardiamo quanto è bello i suoi due effetti ha due effetti attivazione principali che sono fenomenali primo effetto scegli una carta combattimento del tuo avversario e mettila in modalità spossata fantastico ti permette di controllare il board dell'avversario permette di mettere i blocker avversari in modalità spossata adesso non possono più bloccare attacchi uno ovviamente e l'effetto non ignora barriera ma è giusto per bilanciare il gioco se no sarebbe troppo forte e poi permette di mettere in modalità spossata carte che magari tu vuoi avere in modalità spossata per attivare i tuoi effetti oppure per poterle attaccare e distruggerle il secondo effetto è decisamente il motivo per cui questo leader è talmente giocato in giro per il mondo scegli una carta dalla tua vita e aggiungila alla tua mano scegli fino a una carta in modalità spossata e mettila in modalità attiva questo vuol dire che dopo che ti fai il danno puoi girare leader in modalità attiva puoi girare un'energia in modalità attiva se vuoi oppure puoi girare una tua carta combattimento in modalità attiva o puoi anche girare una carta terreno in modalità attiva se è necessario se lo richiede non si sa mai ci sono carte che permettono di essere sfruttate mettendola in modalità attiva e in modalità spossata carte terreno ovviamente questo effetto è fantastico immagina di avere in campo un 20k, 25k, 30k doppio striker oppure di aver messo in campo una scr bene attacchi ora ti fai un danno la carta praticamente guadagna dual attack se avevi in campo un 25k a doppio striker adesso diventa un 25k quadruple striker siccome attacca due volte fantastico poco usato nel nostro formato perché non ha tante carte che lo supportano però col tempo avrà delle promo che usciranno che daranno una mano al leader per girare il proprio engine leggermente migliore però per adesso non è così efficace comunque vi posso lo stesso consigliare un buon engine per giocare con questo leader ed è il Gohan di BT6 il Gohan di BT6 quello che entra in campo con doppio strike e dual attack è ottimo in questo mazzo perché mette l'energia dell'avversario in modalità spossata e poi fai due attacchi con doppio strike infine puoi fare un terzo attacco grazie all'effetto del leader ti fai un danno rialzi il Gohan il Gohan SR di BT6 e concludi con il tuo terzo attacco doppio strike fantastico effetto fantastico leader è decisamente uno dei miei leader preferiti da giocare in generale va bene con questo concludiamo la lista dei 4 leader promo che volevo analizzare abbiamo visto che alcuni sono più giocabili di altri alcuni invece richiedono un po' più di immaginazione invece alcuni sono proprio forti di sé spero che vi sia piaciuto il video e che abbiate avuto qualche idea innovativa e se avete condividete pure e per qualunque domanda riguardo alle carte o al gioco fatemi sapere pure nei commenti con questo concludiamo il video e ci vediamo alla prossima ciao ciao